Purtroppo devo dire che nel fare il giro con molti dei nostri clienti abbiamo trovato veramente la spiaggia molto sporca, siamo all'inizio della stagione quindi ci auguriamo che tutti i bagnanti, tutti coloro che arriveranno anche nelle spiagge libere a godere di questo mare possano comunque mantenere sempre puliti gli spazi che occupano. Lui è uno dei volontari del circolo di Girifalco impegnato nella pulizia del regnile di Gizzeria Lido, uno dei tanti luoghi della Calabria raggiunti grazie alla campagna promossa da Legambiente Spiagge Fondali Pulite 2017. Dal 27 maggio all'11 giugno i rifiuti di ogni genere saranno raccolti e portati altrove, sulle spiagge purtroppo si ritrova di tutto, bottiglie, mozziconi di sigarette, calcinacci, stoviglie che spesso finiscono in mare che diventa così una pattumiera di rifiuti. Il peggiore tra questi è la plastica, la quale non si dissolve mai, arrecando gravi danni all'intero ecosistema. La campagna vuole così sensibilizzare tutti a una maggiore tutela dell'ambiente e dei fondali sottomarini. Invitiamo quindi tutti i bagnanti da quest'estate ad aderire una campagna europea dedicando 5 minuti e il proprio tempo raccogliendo l'aria intorno al proprio ombrellone, il spazio dove si trovano, anche nelle mie atti vicinanze, a fare questa gara, quindi in 5 minuti raccogliere i rifiuti e fotografarsi e pubblicare questa foto sui social più conosciuti da Facebook, Twitter e Instagram. Rosaria Giovannone per la C News 24